siamo così giunti al bivio della santella ad è a sinistra si percorre sentiero che raggiunge cascina grassi mentre a destra parte sentiero che porta santonofrio 972 metri è un sentiero dato a 55 minuti solitamente si percorre in una mezz'oretta per le persone allenate e permette in solo mezz'ora di arrivare a 972 metri nella chiesetta di santonofrio con 400 metri di livello è una salita quindi molto molto dura abbastanza tecnica perché è praticamente sotto percorso c'è la presenza di roccette non è difficile impegnativa non è pericolosa prestare solo un po di attenzione in in discesa per stare un po insomma sarà un po attenti per i piedi comunque salita impegnativa che si sviluppa tutto in cresta e che non si lascia un attimo di respiro ci vediamo su